Io sono Pier delle Vigne Perché si è finito all'inferno? Perché Federico II mi ha dato la sua fiducia E tu lo sei fatto? Io ho mantenuto la sua fiducia E ho lavorato degno, onestamente Però il mio popolo non mi hanno voluto Mi hanno trattato come un tradittore Allora, per tutto questo motivo Io so cosa ho fatto E ho preferito morire che la vergogna Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti